Rose bianche e palloncini per l'ultimo addio alla piccola Emanuela Braia, l'undicenne studentessa di prima media che la scorsa settimana è stata investita e uccisa da un furgone mentre rincasava in bici. Il sindaco di Campodarsego, Walter Gallo, ha proclamato lutto cittadino per il giorno dei funerali, bandiere a mezz'asta, serrande abbassate per il saluto della comunità reschigliano in cui Emanuela è nata e cresciuta. E per dare a tutti la possibilità di assistere alla celebrazione, la cerimonia si è svolta sul piazzale della chiesa dove a stringersi al dolore dei suoi cari c'erano i compagni di scuola, le famiglie, i rappresentanti dell'amministrazione comunale.